Avvocato Gian Piero Falasca, partner di DLA Piper, nel suo intervento si occupa di giusta causa e di questo istituto. In questi giorni si parla molto di decreto dignità e delle causali che sono il grande tema che sta facendo discutere moltissimi professionisti nel settore. Qual è lo stato dell'arte? Sì, allora diciamo il decreto dignità si occupa di causali dei contratti a termine e di licenziamenti e quindi diciamo temi molto vicini a quelli del nostro convegno. Diciamo che è in arrivo una stretta fortissima e in attesa sul lavoro flessibile, quello che consideravamo tutti il lavoro regolare, cioè il lavoro a termine e il lavoro in somministrazione. Sui licenziamenti c'è un innalzamento dei costi abbastanza importante perché per chi è in tutela crescente si passa da un minimo di 4 a un minimo di 6 e da un massimo di 24 fino a un massimo di 36 mensilità. Quindi si inaugura una stagione legislativa per certi versi sorprendente, le attese forse erano diverse, stiamo a vedere cosa accadrà perché ci sarà una lunga fase di dibattito per la conversione parlamentare. Certo il segnale per chi si occupa di diritto del lavoro è quello di una ripresa della complessità. Quale che sia il giudizio che si può avere di queste regole, riandiamo verso un diritto del lavoro pesante, iperregolatorio, iperinvasivo delle dinamiche del mercato del lavoro. Questo dal mio punto di vista non è un fatto positivo in generale. Grazie a tutti.